Il mar Mediterraneo attorno alle coste calabresi, a dispetto di quanto è stato detto in passato, è un luogo dalle mille risorse e dalle mille sorprese. Nel 2009, proprio nelle acque antistanti a Vibovalenza, i biologi scoprirono una nuova specie di conchiglia, una ciprea, che non era mai stata avvistata prima nei mari del pianeta, quindi non era ancora catalogata. Nello stesso anno e durante la stessa ricerca fatta dai biologi marini dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Ispra, fu scoperta a Scilla la più grande foresta di corallo nero che si è stata mai vista prima in nessuna parte del mondo, con circa 30.000 colonie presenti fra i 50 e i 110 metri di profondità. Quindi il madreporario d'endrofiglia, Anicotra. Ora un'ulteriore scoperta, questa volta sui fondali a largo di Cosenza. Infatti il Centro Strategia Marina dell'Arpacal ha segnalato una nuova scoperta sensazionale, una specie rara e protetta che si va ad aggiungere all'elenco della ricca biodiversità nei mari calabresi. Si tratta della Patella ferruginea, un mollusco gasteropode della famiglia delle Patellide, il più grande del Mediterraneo, con un diametro che può arrivare fino a 8 cm. Si riconosce facilmente non solo per la sua taglia, ma anche per il suo guscio, molto spesso e solido, e segnato da creste squamose. È uno dei principali invertebrati marini a rischio di estinzione, presente nel Mediterraneo. Secoli fa era diffuso in tutto il Piacino, attualmente si trova quasi esclusivamente in quello occidentale. Decimata dalla pesca a piedi, visto che viene utilizzata come esca e dall'inquinamento, fino ad oggi esisteva solo in Corsica, Sardegna, Marocco, Algeria e nel sud della Spagna. Adesso anche in Calabria.